E poi c'è il discorso del design che ci riunisce qua, dove il direttore artistico lavora insieme ai designer per sviluppare un prodotto che sia coerente con quelle che sono le aspettative dell'azienda. Ci hanno fatto vedere questa cosa, era affascinante nel senso che intorno a questo bisognava costruire quella cosa che poi permetteva alla fine di utilizzare questa capsula. Carlo Bach, com'è possibile realizzare e costruire un progetto di design attorno a un prodotto minimo e così, di piccola quantità come un caffè? Proprio perché è piccolo ed è una minima quantità che va circondato e protetto, diciamo. La funzione della tazzina, che è il primo intorno del caffè, è proprio quello di favorire la produzione della crema attraverso la forma e mantenerlo caldo attraverso lo spessore della porcelana. Per cui in realtà proprio le cose piccole e preziose hanno più necessità di essere circondate da un buon design. Il di caffè è famosa soprattutto per questa tazzina. In vent'anni com'è cambiata? Mai, perché la consideriamo la tazzina perfetta, diciamo. Ormai è una nostra icona, è un nostro secondo marchio tridimensionale. Ha solo la fortuna di essere vestita ogni tre mesi da un nuovo artista che gli dà una diversa interpretazione nei colori e ogni tanto anche in minima parte nelle forme. Quali sono gli altri percorsi di design che il caffè esposa? Ormai siamo a 360 gradi intorno al mondo del caffè perché siamo partiti appunto dalla tazzina, ancora prima dal packaging, da come contenere il caffè stesso come prodotto, poi dalla tazzina. Oggi siamo qua per parlare di una macchina, in mezzo ci sono stati i bar, per cui tutte le possibili espressioni del caffè a livello di prodotto, ma tutte le espressioni anche di caffè come macchine e soprattutto luoghi. Alex Terzariol, lei ha disegnato questa nuova macchina da caffè in lì. Qual è l'aspetto innovativo? L'aspetto innovativo è stato proprio il cambio di paradigma. Invece di disegnare il solito parallelepipio dove abbiamo voluto ricreare un archetipo nuovo potendo alloggiare tutti i componenti all'interno della base e dalla base far fuoriuscire una torre che è l'elemento in cui viene ospitata la capsula, il vero brevetto della Illy. Quando l'ha pensata? Ma intanto questo è un progetto di studio ed è stato pensato da più persone all'incirca 4 anni fa. Quindi è stato un processo che è durato anche un po' di tempo. Ecco, 20 anni ha un po' la storia del design legato all'ecaffè. In questo percorso lunghissimo, questa macchina dove si colloca dal punto di vista ovviamente dell'innovazione? Beh, diciamo che è l'inizio di una nuova generazione di macchine Illy e quindi abbiamo voluto proprio tracciare un percorso nuovo, innovativo, che partisse dal segno ma che partisse anche da una nuova ergonomia, da un nuovo utilizzo e anche da una nuova semplificazione delle funzioni.